Paziente al giorno per errori clinici tra i 14.000 e i 50.000 all'anno, numeri il cui costo economico è di 10 miliardi di euro, pari all'1% del PIL nazionale. Al quinto forum Risk Management si parla di sicurezza e buone pratiche a fronte di un'incidenza ancora significativa del fenomeno degli errori clinici. Le aree specialistiche in cui si verificano più errori sono l'ortopedia e la traumatologia, 16,5%, l'ostetrice e ginocologia, 10,8% e il 10,6% in chirurgia generale. In oncologia col 13% il 50% degli errori avviene nella fase prescrittiva, il 15% nella trascrizione delle terapie. Tra le soluzioni il braccialetto identificativo, una tecnologia che permetterebbe di inviare i dati ad un server in grado poi di verificare errori e incongruenze. Sempre più tecnologia in sanità elettronica e biosensori per ridurre al minimo il rischio umano. La tecnica classica della simulazione, cioè prima si opera, poi si rivede quello che si è fatto e si ridiscute insieme gli errori che si sono commessi. È una colonna videolaparoscopica per la chirurgia mini-invasiva, sempre di più si fa chirurgia senza dover aprire il paziente. È uno strumento di ultrasuoni, quindi permette di fare delle ecografie in tutto quello che è addome e polmone e cuore. Secondo le ricerche in molti casi è la reticenza degli operatori a non permettere l'individuazione di soluzioni efficaci a errori e disattenzioni. In Toscana le aziende sanitarie mettono in campo progetti di monitoraggio come la Aslo 8. Oltre a un centro direzionale per la tutela del paziente, sta costruendo e formando dei tecnici nei luoghi dove si curano le persone, cioè presso i dipartimenti. Il rischio zero in sanità non esiste, ma incrociando le esperienze può essere un obiettivo davvero alla portata. E dal Forum Risk a Rezzo per TGT, Sara Lucaroni.